Guidare e supportare le imprese che vogliono adottare una soluzione di welfare aziendale per incrementare la produttività e il benessere dei lavoratori. Con questo obiettivo Api Siena e UbiBanca hanno firmato un accordo per promuovere tra le oltre 260 imprese associate ai loro dipendenti la possibilità di adottare al proprio interno una soluzione innovativa di welfare aziendale. UbiBanca, grazie alla divisione specializzata UbiWelfare, offre un servizio di consulenza evoluta e completa con soluzioni integrate e personalizzate per imprese di grandi, medie e piccole dimensioni, mentre Api Siena è l'associazione di imprenditori rappresentativa delle aziende del territorio senese di tutte le dimensioni. L'offerta della banca è finalizzata a realizzare un ecosistema territoriale che coinvolge, favorendone lo sviluppo, clienti e fornitori dei beni e servizi welfare. Sino ad oggi sono stati siglati accordi con numerose e significative associazioni datoriali e territoriali in moltiplici settori aria del paese e quello con Api Siena è il primo accordo siglato da UbiBanca con un'associazione di categoria in Toscana. La disponibilità di servizi di qualità sul territorio può facilmente soddisfare i bisogni personali e familiari con particolare riferimento ai servizi che possono incidere sulla qualità della vita come assistenza sanitaria, pensioni e previdenza integrativa, sostegno a reddito, istruzione, tempo libero, cultura, acquisto di beni e servizi e cura della famiglia. Dal punto di vista operativo l'azienda può contare su una gestione complessiva del piano di welfare aziendale che permette di minimizzare gli oneri amministrativi e operativi a suo carico mentre il lavoratore dispone di una piattaforma facile da usare e sempre accessibile da PC, tablet e smartphone con un servizio di costante assistenza.